Ben trovati la TG della mobilità nel comune di Fonte Nuova prosegue anche oggi e nel fine settimana la manifestazione della birra durante l'evento a partire dalle 17 è prevista la chiusura di via Nomentana da via Primo Maggio a via Goldoni, la linea 337 devia sulla Nomentana Bis e via Ritor Sant'Antonio. A Borgo Cesano festa del Santissimo Crocefisso fino a domenica a partire dalle 15 le linee 024 e 036 svolgeranno servizio come circolari con capolina unico in via della stazione di Cesano. Le altre notizie lunedì trasporto pubblico romano a rischio per uno sciopero nazionale di 24 ore. A Roma l'agitazione sarà in vigore dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio interessando la rete ATAC e bus della Roma TPL. E tutto da TG della mobilità.